Madonna come sono l'ercio dall'ultima costruzione, proprio bisogno di lavare i capelli, allora lo shampoo, lo shampoo è finito, Artic quante volte ti ho detto di rimetterlo lo shampoo, Artic di merda, che palle con so shampoo, lo devi mettere lo shampoo ti ho detto quando lo finisci, lo shampoo cazzo mi sono lavato anch'io, cosa mi fai brutto con la spada, metti lo shampoo, metti lo shampoo, Signora Artic Runner, io la dichiaro colpevole per lo shampoo incidio del suo conquilino Aaron Blaze, sconterà una pena di 20 anni nel penitenziario di Minecraft Ruts. Salve a tutti Blazers e bentornati nella Magical Adventure, sono qui in compagnia di Artic Runner, detto l'assassino. Salve a tutti che sono i del web, sono Artic Laggantissimo Runner, Dio Cristo, che laggatone. Eh esatto, eh sì ma il carcere ti ha cambiato, fra l'altro sappi che sei stato lì 20 anni ma io sono rispawnato subito, non te l'hanno detto? Ma rimuori. E' incazzato nero, allora, ah ho dimenticato in casa l'armatura, vabbè dopo la prendiamo. Allora nella puntata di Artic, che è precedente al mio video, quindi andatevela a vedere assolutamente, abbiamo mostrato tutto l'interno della casa, che abbiamo rinnovato in una maniera pazzesca, non avete proprio idea. E niente, ci mancava da mostrare la coltivazione, molto semplice, il punto clu lo diciamo tra pochissimo Artic, non avere effetto ragazzuola. Tu sembri che ti soffermi sulle coltivazioni madonna. Eh sì, l'erba così. Fra l'altro abbiamo lanciato il nuovo hashtag Artic Pappone, quindi mi raccomando ragazzi. Eh però dovete guardare il mio video per capire a cosa si riferisce. Esatto, guardate il suo video, scoprirete da dove viene sta cosa. E' una moda ragazzi che dilaga sui social domani su Studio Aperto. Gli hashtag. Allora qui abbiamo il grano, carote, no carote di qua, patate, ma sono uguali, ho messo due di carote. Sono carote entrambi. Vabbè, ho sbagliato, fa niente. Poi seguimi, sure, Artic Runner. Ma che pensavi quando le piantavi? Niente, all'erba. Allora, di qua abbiamo, lavoro in corso, una discesa gigantesca mentre lui si ripiglia dalla risata. E io l'ho. Ma perché? No, tranquillo, ti si sente very good. Benissimo. Allora, di qui si scende e si va praticamente sott'acqua dove c'è una base sottomarina, che però ancora lavora in corso, quindi la mostreremo più avanti. Guardiamo un attimo cosa c'è, là dentro ovviamente c'è un generatore che manda radiazioni per farmi laggare. Esatto, è colpa di quel coso lì. Mentre ora proseguiamo da questa parte, vieni Artic. Non faccio vedere la casa, così sei contento, guardano il tuo video. Che poi mi dice, Eren, io sai che sono money grabber, devono vedersi il mio video, mi raccomando. Allora ragazzi, no scherzo ovviamente, diffamazioni. Non me la sono mica presa, dai, tanto mi è concesso, dopo averti ucciso una volta, guarda. Esatto. Allora, su questo promontorio qui, praticamente, cosa andiamo a fare? Lo pianiamo tutto. Un altro generatore, perché non si sa mai, io smetta di laggare. Esatto, un altro generatore di lag, che in realtà sarà un faro, quindi facciamo la scogliera con il faro. E ci vediamo dopo, quando abbiamo pianato, iniziamo con la costruzione. Perché appunto, penso che non sia tanto piacere male vedere noi che se teniamo una montagna. Esatto, che scaviamo 30.000 blocchi. Eccoci qui ragazzi, abbiamo livellato la collina e come vedete abbiamo terraformato utilizzando la pietra e la ghiaia per fare appunto uno scoglio, perché prima era una collina d'erba, quindi non andava bene. No, come non andava bene? Minchia, l'erba va sempre bene. Eh, sì, e poi dicono a me che sono un fattone, vabbè. Hai detto per te, infatti tu ci tenevo a dire che mentre la distruggevamo dicevo... No, l'erba, sì, certo. E poi ragazzi, abbiamo questi stack di lana bianca e rossa che abbiamo ottenuto tosando giorno e notte Arctic. Dovete sapere che lui ha una pettinatura metà bianca, metà rossa sotto quel cappellino. A parte di te ti tieni il cappuccio che è tipo estate, ci sono 50 gradi sulla pietra, te hai il cappuccio, vabbè. Vabbè, per non parlare di me in maniche lunghe, guarda. Esatto, vabbè, tranquillo. Io sono tipo... Eh, no, sono un uccello adesso, quindi non vado. Allora, torno Eren e piazziamo le basi. Anzi, perché torno Eren? Possiamo restare volatile, c'è più comodo. Appunto. Allora, ce l'hai tu la lana? Sì, ce l'ho. E inizio a piazzare allora le basi come avevamo concordato, cioè così. Io, se ci dovesse essere bisogno di aiuto, sono pronto a invocare Jesus. Esatto. E intanto magari inizia ad alzare i lati. Ok, sì, sì. Siamo alti tre per adesso, poi cambiamo colore. Uno, due. Allora, spieghiamo un attimino, giusto per non lasciare morto tutto questo periodo. Esatto. Come sarà il progetto? Allora, lo dici tu o lo dico io? Ah, vai pure tu. Io parlo sempre, vabbè. Dai, allora, se vuoi. Dai, si è intrappolato dentro. Niente, allora, facciamo l'entrata a bolla faremo da. Aspetta, idea, perché non facciamo doppia entrata? Una di qua e una di qua? Si può fare, si può fare. Allora, niente, il progetto cos'è? Facciamo un faro alto, vediamo, facciamo un calcolo rapido. Sarà sulla trentina di blocchi, diciamo. Sarà la prima parte alternata da bande bianche e rosse. Quindi io inizio anche a mettere il rosso intanto. Ogni banda alta 3. Poi arrivati ad un certo punto ci sarà una sorta di porta che esce. C'è una scalinata che gira attorno al faro e arriva ad una balconata in cima. Esatto. Quindi è una cosa molto carina. E al balconato ovviamente metteremo qualche illuminazione, credo, no? Sì, ovviamente mettiamo... Allora, no lava o tipo fuoco perché... Ah, per forza, micchia la lana. Chi mi segue nel survival sa che ho avuto una brutta avventura. No, veramente, che combinato racconto. Sì, tipo, ho messo della lava in cima a una torre bellissima fatta di legno. No. E' bruciata quasi tutta, l'ho rifatta fuori dal video. Vabbè, lasciamo perdere. Però cazzo, mi faceva comodo una forbice. Peccato. Se la vado a fare? Sì, dai. Se mi fai una forbice mi fa un piacere. Sì, sì, tanto devo andare a casa a prendere del materiale per fare il terreno. Già che ci sono. Sì, esatto. Poi l'idea era di stringere il faro man mano che sale. Esatto. Per cui io ho fatto... Cioè, fatte le prime due bande, direi di iniziare a stringerlo. Sì, il problema è... Poi come... A parte come adattiamo le scale, questo. Eccolo sì. Poi, oltre... Dico, oltre questo... Come facciamo invece a fare le scale, eccetera, i materiali proprio perché... Ma io direi di usare semplicemente... O legno. Sì. Si potrebbe fare anche di lana. Cioè, ci sono gli slab di lana in questo modpack. Eh, ma sono bruttissimi così, dai. Tutto lana e non c'è spazio. Beh, quello sì. Ci vogliono... Non è gli stone brick? Tu che dici? Si può fare, sì. Allora, stone brick andata. E per il pavimento invece facciamo di stone slab, direi. Eccoci ragazzi. Allora, il passo successivo nella costruzione è finire il faro. Cioè, tipo, abbiamo fatto le bande e poi subito... Pam! Faro. Fatto, finito. È che non sapevamo come gestire i passaggi. Comunque sia. Esatto. È molto figo, però adesso entriamo subito perché è notte. No, 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 non entriamo subito. Lascia la suspense. Prima facciamo vedere qui, guarda. Ah, ok, è giusto, è giusto. Io lo faccio volando, che... Do una panoramica originale. Ma sempre figo. Esatto. Ah, guarda che mi ha droppato comunque uno scheletro. Ah, la silver... Scheletro, uno scheletro. Quanto ha del bracco? Non ci sa, boh. La mettono lì tra i trofei di... Eh già, giusto. Bella idea. Ma tu non sei... Sei in creative, per... No, non sono in creative. Ah, no, ok. Non sia mai. Adesso divento eres. Stavo semplicemente volando come uccellino. Allora abbiamo quindi connesso il percorso al faro con questa... Questo viale con i lampioni. Tipo... Bello. Non so, mi sa di Londra vittoriana, sta cosa qua. Non lo so. Tu conosci Londra vittoriana? Certo. Ci sono stato. E niente, allora qua si entra nel faro che è imponente. Si è venuto tipo una trentina di blocchi comunque. È davvero bello comunque. Ora facciamolo vedere. Pietrisco bianco all'interno. Sono pure due entrate. Esatto. Una lì e una qui. Mega scalinata. Bella. Fatta da me. Sono caduto subito però. Come fai? Eh, perché mancano le protezioni diciamo. Però se le mettessimo farebbe schifo. Quindi va bene così. Esatto. Meglio così dai. Eccoci qua. Un pochettino laggare. Vabbè. Sì. Arrivati qua si esce quindi nella scalinata che si vede dall'esterno. Si sale esternamente. I vetri marroni perché ci sanno anche se il marrone fa cagare. Ma sono marroni? Wow, sembrava arancione. È un marrone particolare. Però l'ho messo perché appunto si abbina con il legno. Che è tipo... Infatti si abbinava con il legno. Esatto. Ci diamo sto ratto schifoso coda liscia. Cheat. E arriviamo qui. Allora c'è tutta la balconata. Da cui possiamo anche vedere... Eh, guarda che bello di qua. Eh sì, aspetta. Penso che il punto migliore sia di qui per ammirare. No, no, qua mi sa. Ah, sì, è vero, di lì. Qui puoi vedere tutto se c'è la rituale in... Al massimo. Comunque. Allora, qua c'è tutta la nostra casa bellissima. E... Guarda lì la pixel art. L'altra parte dell'isola è il vuoto della casa di Eme. Povero. La pixel art è spacca da qua. È bellissima, ragazzi. Esatto. Poi da qui entriamo, quindi. E qui abbiamo il nostro grande faro. Da una lanterna sola che illumina la notte. Ottimo. E fatto ciò, torno uccellino, faccio vedere anche su, così poi abbiamo finito. Ok, torno anch'io a Twitter. Grandissimo Twitter, acclamato dai fans, signori. Esatto, io Twitter cinese. Ecco, Twitter. Chica finale sul pennacchio del faro. Ho messo questa torcia di redstone che fa tipo quei segnali che emettono sulle gru o sui palazzi. Mettono tipo delle luci rosse per gli aerei, praticamente. Sennò gli aerei ci passano, si schiantano. Si schiantano contro una slab. Esatto, esplodono e tutto quanto. Eccoci qui, ragazzi. Quindi, prima di chiudere il video, vi diciamo qual è stato l'iscritto estratto di questa puntata. Quindi, dopo Fazzidude, abbiamo deciso di estrarre, questa volta, un iscritto dal mio canale. L'iscritto estratto tramite la lista del coinvolgimento è... Rullo di tamburi, Artic. Grazie. Se è la mia valletta preferita, te lo dico. Grazie, grazie. Dopo ci vediamo in camerino. Ok. Oddio, San. Allora, ragazzi, l'iscritto estratto è... Che loro sono lì con la suspense, giustamente. L'iscritto estratto è... Mega No Death. Grande! Spero di averlo detto giusto. Bravo per essere stato il top dell'attività. Allora, diciamo, ti contatterò, oppure se guardi questo video contattami tu, comunque sia, ci sentiamo e ci mettiamo poi d'accordo per registrare una delle prossime puntate insieme, tutti qua su questo fantastico mondo. E niente, ragazzi, mettete 500 miliardi, 400... 500 likes, se volete che rendiva, se no mi devono ricondannare. Esatto. Per altri 20 anni. E commentate dicendoci cosa si può fare in questa serie, condividete il video, andate anche sul canale di Artic. Un saluto da Aaron Blaze e Artic Runner. E bye bye, guys! E alla prossima, ciao a tutti! Ciao! Ciao! Ciao!